Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Se l'ho dato Gesù Cristo, cari bambini, un autore dell'antichità, Plutarco, racconta la storia di un animale che parlava il linguaggio umano. E tutti erano molto stupiti di sentire questo animale che parlava il linguaggio umano. Ma oggi succede il contrario, ci sono molti uomini che parlano come gli animali e nessuno prova in questo il minimo stupore. Quando è che gli uomini parlano come gli animali? Quando bestemmiano il santo nome di Dio. Ma è così grave bestemmiare? È così grave proferire il nome di Dio in vano? Vediamo cosa ci dice il secondo comandamento della legge di Dio. Il testo integrale di questo comandamento dice così Non nominerai affatto il nome del Signore tuo Dio in vano poiché il Signore non considererà come innocente colui che avrà pronunciato il nome del Signore suo Dio in vano. E non solo l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo Testamento richiama la nostra attenzione sul rispetto al nome di Dio. Così ci insegna nostro Signore nel Padre nostro, subito dopo la prima frase, Ma, dirà forse qualcuno, il secondo comandamento occupa un posto troppo importante poiché infine per una cosa così piccola quale il rispetto al nome di Dio è proprio necessario fare un comandamento con una sanzione così severa in caso di infrazione? Se ben riflettiamo, dobbiamo constatare che qui si tratta di cosa ben più grave che della semplice protezione di un nome L'impiego del nome non sarebbe di tanta importanza ma sotto il nome vi è l'essere che esso rappresenta e pronunciare con irreverenza questo nome è già un insulto e uno sprezzo a chi esso rappresenta Il bestemmiatore non disprezza solo il nome di Dio ma Dio stesso Vi sono dei nomi quelli dei nostri parenti dei nostri benefattori dei nostri amici che fanno battere più celermente il nostro cuore quando li sentiamo pronunciare Con quanto più rispetto non dovremo pronunciare il nome di Dio di questo Dio che è nostro amatissimo Padre nostro primo benefattore il nostro più fedele amico nessun bambino può sentire profanare il nome di sua madre nessun soldato sopporta che in sua presenza venga disprezzato il capo che li rispetta e andiamo più in là nessun cane sopporta che il suo padrone sia minacciato e vi sono uomini che con tutta tranquillità permettono che si insulti i loro padri celesti uomini che proferiscono odiosi impregazioni contro il re dei re chi può proferire senza rispetto il nome di Dio quando basta un attimo di riflessione per sapere chi è il Dio chi le disprezza Mosè in ginocchio dinanzi al roveto ardente dice ecco dice a Mosè a Mosè dice ecco che io andrò verso il figlio di Israele e dirò loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi e poi se mi domandano qual è il vostro nome che cosa risponderò e Dio disse a Mosè io sono colui che sono vale a dire colui che esiste la cui essenza è di essere colui che è al di sopra di tutto il mondo di questo mondo puramente occasionale chi esiste avrebbe potuto non essere tutto ciò che vive esiste per mia volontà e finché vorrò io sono la fonte eterna di vita tutto procede da me tanto la piccola goccia di rugiada quanto il raggio emanato del sole è dunque Dio il creatore onniposente Dio l'assoluto Signore Dio il Padre amatissimo Dio il giudice severo e voi figli dell'uomo pecatore e uccisore povere e rebele voi osate oltraggiare il Dio ah cari bambini se la vita è difficile se ci sono prove sofferenze non dobbiamo dare la colpa a Dio non dobbiamo rimproverarlo per le nostre inquietudini anzi dobbiamo metterci in ginocchio e pregare e onorare il nome santo di Dio perciò quando voi avete qua qualche difficoltà cercate di onorare il santo nome di Dio e specialmente il nome di Gesù Gesù e Maria noi abbiamo la mano destra abbiamo la mano sinistra e con la mano destra e la mano sinistra facciamo tante cose nella nostra vita così la nostra anima deve invocare Gesù e Maria e con Gesù e Maria tutto si fa con Gesù e Maria saremo vittoriosi è il demonio che bestemmia il nome di Dio e che inspira l'odio nel cuore dei bambini e degli adulti contro Dio perché ah cari bambini ci sono dei bambini che bestemmiano contro il santo nome di Dio e lo fanno anche con malizia perché hanno imparato dai grandi dai noni a volte dai genitori che danno cattivo esempio voi cercate di onorare sempre il santo nome di Dio sia lodato Gesù Cristo oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org